Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella ragazzi, vi ho trovato qui su Cagliari Ranas Dopo la terza vittoria consecutiva andiamo ad affrontare un benissimo Allora, quando c'ha Chris Mann, quando c'hanno Chris Mann, regà, è finita Vincono sempre, a parte che ha messo le tickets Vabbè, però c'ha Chris Mann Cross, c'ha Chris Mann Cross è togli, lo sai Grande larga, ancora Levandoski, Levandoski, Levandoski Mortacci, due, Dio Allora, io subito, subito Mi hanno sottolto sto cancro È bello Subito Vai Mamma mia, regà, c'è, che cazzo sta succedendo a Jacky Spani? Oh, madonna C'è, ha fatto una bicicletta A culo Cross Tacci tu C'è, ci stanno tutti Non lo so, bombardateci, no? Mamma mia, ancora l'azione manorata, dai Vecchie Cavani Che vede Le Vandoski Mannaggia, però con questo è un bel spalolo Quello che passa a mezzo, un tanto, Casper, si chiama Ma Casper, mi young Ancora il mezzo Fallo Le Vandoski Oh, ho, ho, ho E' da dare un giro Oh, ho, ho Che cazzo c'entra Così, ve, che ruot Le Vandoski Posso P-Check Aubameyang Aubameyang Acora, Aubameyang Aubameyang E' bocca Non ho la palla per lui Aubameyang, 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 Aubameyang Aubameyang Tanto se lo caga perché c'ha i piedi a cagare Se l'hai cagato Se l'hai cagato Vedi, ce l'ha, avvicinati C'è l'ha al contrario, lui, non c'ha al destra e sinistro Se l'hai cagato veramente No, no, Mamma mia Manoel Cominciò a parare Anche questa, incredibile Se tutti noi voi trovi, quindi c'è pure la metezza di Umels Si Ma pure niente Può rientra ancora Vai, guarda, però Mi è piaciuta per me è piaciuta e non è parangola incredibile 1 1 cazzo 8 non è stato arrivato giustamente fiscale 2 a 0 per noi pubblicità per voi aia aia o aia ispirato oggi non mi hanno facciato probabile da mosto ovviamente si è riuscita a fare un passaggio fatto bene oddio la busta e ancora è una palla per lui perchè non ha tirato perchè non ha tirato mortacci su perchè non ha tirato sto pezzo d'infame la gibbere olé neuer ancora eh no non è ricordata neuer no mea neuer che cazzo si è preso chi si è preso lo zeno posto immenso incredibile c'è lui è ancora lui difesa in piedi tra ieri oi marcolino marcolino marcatraia marcolino 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 che cazzo stiamo offrendo male ma che stanno a soffrire mi vado dove mi dite di andare cioè farlo non vorrei di niente però oddio oddio marcolino marcolino non so che cazzo non vedo niente tutto bianco tutto bianco bella via così a buffo sparisci no non sparisci che è successo batte sul cartellone della pubblicità troppo troppo è vero e' andare al portiere disimparente oh cazzo che palle che palle ma che è strano vai 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 uo alla bagna c'è mercolino no c'è le gondoski le gondoski c'è rubettino oh c'è l'ho visto e' gol e' gol no non ci posso credere dal primo dino marcolino che sbaglia ste cose rigore rigore gli andate rigore gli andate rigore gli andate lontanottesimo non ci posso credere cioè ma da quando eri se io ti do un calcio su la gamba lo c'è a destra destra mia si questa ti prego ti prego destra 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 ma non voglio segnalarlo il nuovo nuovo grande apprezzo ha pure cambiato il tiratore mamma mia via sta palla grande come pensi ma i francesi hanno un brutto apporto che rigori c'è cazzo da fa vedi giallo così random sua fiducia perchè non ha fatto un cammino via vai pisci grande pisci ciao ciao eh mamma mia regalo clamoroso mamma mia c'è un po' salvato fermate e niente sono 4 vittorie di seguito incredibile incredibile forse siamo a 13 punti e se vinciamo la prossima siamo già promossi fate famosi hp se vinciamo la prossima siamo a 15 quindi non saremo promossi però stiamo lì lì per esserlo e bello bella cosa che si è caricato il rigore dai noi comunque ci vediamo al prossimo video e niente ciao è sempre niente ciao 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 ciao